partiti i cavalli dell'ultima corsa di questo pomeriggio venerdì 15 gennaio dall'interno fa subito partenza sopran Tajmal che sta cercando di sfruttare soprattutto il peso molto basso seconda posizione occupata da Batelik in terza troviamo Halo Slack a precedere State of Play riconoscibile dalla giuba rosa e verde poi tra questi anche Secret Talk con Run Out of Excuses in mezzo al gruppo a precedere anche Cappuccino Bay all'esterno c'è la giuba amaranto che è quella del giocato Urelio a precedere anche Adrio che ha chiuso da favorito al suo esterno c'è Donna Way poi Tlaloc il quadro è completato da Duchessa Chiara mentre in coda a tutti troviamo Necret cavalli che sono adesso all'imbocco della dirittura d'arrivo Halo Slack che ha preso un buon barco e si è portata in vantaggio anticipando tutto il resto dei rivali seconda posizione per State of Play che si getta all'inseguimento stessa cosa che fa Adrio all'interno ci sono Sopran Taj Mahal e Secret Talk gli ultimi 400 metri da percorrere con Halo Slack attaccata all'interno da Adrio e Urelio all'esterno c'è State of Play ci prova anche Donna Way questi sono i cavalli che vanno a giocarsela con State of Play che è passato nettamente in vantaggio negli ultimi 200 metri deve produrre la resistenza migliore nei confronti di Urelio che comunque ci prova State of Play è davanti nei confronti di Urelio State of Play che vince ancora una volta e ottiene così la vittoria numero 2 in carriera seconda consecutiva per il figlio di Brunel Force si chiude così il pomeriggio con il numero 9 dello schieramento a segno Samuele Diana in selle il training e i colori sono quelli di Elena Malgioglio al secondo posto è arrivato il 14 Urelio al terzo il 4 Adrio rivediamo le battute conclusive Halo Slack aveva tentato la lunga fuga ma State of Play è stato il più lesto ad agganciarla prodursi in una bella progressione 9 al primo posto State of Play al secondo posto come detto il giocato Urelio 9-14 e al terzo il numero 4 Adrio 9-14-4 è l'ultimo ordine d'arrivo che vi dovevamo vi ringraziamo per averci seguito l'appuntamento torna venerdì prossimo con le corse al galoppo da Capannelle grazie e buonasera grazie a tutti